40.000 euro messi a disposizione da parte di Regione Puglia per un progetto rivolto ai minori in difficoltà che vivono in strutture protette. Si chiama Un Dentista per Amico, l'iniziativa promossa mediante avviso pubblico dalla Regione e che permette appunto cure e assistenza gratuita a chi non può sostenere cure odontoiatriche, perché il futuro passa anche dal sorriso. Al progetto hanno già aderito in maniera volontaria 52 medici e sono circa 500 i minori già sotto cura. Tanto la prevenzione quanto la cura per i denti dei minori che hanno disagi dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Sappiamo bene che in un momento come questo dove le cure, soprattutto quelle che non sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e quindi che non vengono passate dallo Stato, sono per molti veramente un lusso. Questo progetto che nasce da qualche mese e in cui abbiamo la collaborazione con un'associazione che è Ligure, che però ha già lavorato in tante altre regioni, è per noi fondamentale. L'associazione beneficiaria del progetto è Ligure, il modello vincente, proposto da Archè già in altre regioni italiane, sta trovando terreno fertile anche in Puglia. Non è solo sanitario il progetto, non curiamo solo i denti e ce n'è bisogno perché la sanità pubblica risponde parzialmente e perché le cure dentali sono costose durante tutto l'arco della vita, negli studi privati, ma in realtà c'è un risvolto sociale importante. Mi viene da pensare, un bambino a cui non curi i denti può essere facilmente un adulto senza denti. Chi darebbe un lavoro a un adulto senza denti? Quindi in effetti il progetto riteniamo sia di valore ed è per questo che dalla Liguria siamo venuti in Puglia e andiamo in tutte le regioni italiane e lo rendiamo nazionali perché è un progetto unico per organizzazione e strutturazione.